Fill my heart with song and let me sing forevermore You are all I long for, all I worship and adore In other words, please be true Ben trovati, nuovo appuntamento con l'ospite Vi presento subito Alfredo Ambrosetti, direttore delle terme di Sciacca per tantissimi anni Consigliere comunale con diversi trascorsi politici Quindi avremo modo di spaziare nel corso della trasmissione Non le chiederò soltanto di terme, chiaramente Le chiederò anche commenti sulla situazione politica a livello locale e regionale Anche in considerazione del fatto che lei comunque ha partecipato al progetto del sindaco Valenti nel 2017 Candidandosi addirittura al Consiglio Comunale nella lista del sindaco Dopo diversi anni di assenza dalla scena politica Dopo tanti anni Che cosa l'ha entusiasmata a suo tempo di questo progetto? Allora, intanto, prima ancora del progetto Perché io non conoscevo Francesca Valenti Però avevo un rapporto d'amicizia di lunghissima data E anche di consonanza politica per i trascorsi Con Franco Valenti, cioè con suo fratello Che è stata la persona che mi ha cercato, insomma Che mi ha chiamato e che mi ha fatto conoscere Francesca Valenti E devo dire che Il primo approccio è stato un approccio estremamente positivo Nel senso che Ho visto una persona Che veramente voleva in qualche modo spendersi Presa da grande entusiasmo Forse troppo, devo dire Perché probabilmente perché Poi l'approccio diretto con la politica È diverso da quello che ci si immagina E ho avuto con lei Un lunghissimo colloquio Tanto per cambiare sulle terme E così anzi Credo che lei mi abbia detto Proprio che sulle terme io avrei dovuto In qualche modo Essere vicino a questa amministrazione Insomma, come dire Condividere le esperienze Condividere quello che un po' Mi era rimasto delle mie esperienze Di 23 anni di terme di Sciacca E quindi è stata questa Questa voglia Poi la candidatura è stata Un modo anche per capire Dopo tanti anni di distanza Dall'ultima esperienza E soprattutto dopo molti anni di Lavoro a Palermo Che cosa fosse rimasto Praticamente dal punto di vista Del consenso personale Credo di aver ricordo Di avere preso 220 voti Che non è cosa da poco Per una persona che sta fuori Da molti anni ormai Quindi Mi sono sentito soddisfatto Anche di questo Assolutamente Non mi sono sentito frustrato Per la mancata Elezione Era proprio Una prova Per capire Cosa era rimasto Non molto Ma insomma un po' Qualcosa evidentemente Era rimasto Qualcosa sì Lei ha comunque seguito Questa amministrazione In questo anno e mezzo Le chiedo Qual è la valutazione Anche alla luce Della terapia d'urto Che il sindaco Ha attuato Due mesi fa L'azzeramento Dell'aggiunta Per ripartire di nuovo Segnale che evidentemente Qualcosa non andava Rispetto a quell'entusiasmo Che lei Ha ricordato poco fa A quell'ottimismo L'entusiasmo E l'ottimismo Sono sentimenti comuni All'inizio Di un'avventura politica Poi a un certo momento La passione va scemando Inevitabilmente Perché quando poi Si affrontano i problemi Quando si cercano Le soluzioni A questi problemi Quando non si riesce In qualche modo Poi a fare squadra Ma quando parlo di fare squadra Non parlo di fare squadra Soltanto squadra assessoriali Quando non si riesce A fare squadra Con la macchina Complessiva Perché la macchina Cammina solo Se camminano tutti No? Le terme Sono diventate Quelle che sono diventate Non perché O non solo Perché c'era Pasquale Mannino Perché poi ci sono stato io O altri Ma perché se non ci fossero state Le donne Gli uomini Che in questo percorso Avesse lo speso Grandissima parte Del loro tempo Del loro impegno La loro professionalità Non si sarebbero raggiunti Quei risultati Che spero ancora Le persone ricordino Perché furono Risultati veramente Poi lo ricorderemo Mettevolissimi Quindi lei dice L'entusiasmo La buona volontà Non basta Non basta neanche Avere una buona squadra Assessoriale Bisogna avere la capacità Di far funzionare Poi questa macchina Ma io non farei Un ragionamento Sulle capacità Anche perché io Non giudico mai Per me le persone Sono tutte Capaci Intelligenti Se approcciano Certo Chi approccia Per la prima volta Con i problemi gestionali Probabilmente Come dire Deve acquisire Gli strumenti Deve fare un minimo Di palestra Rispetto agli strumenti Però Qui non è un problema Di competenza O di intelligenza O di capacità Qui è un problema Di sistema La mancanza Del sistema Che io Per la verità Devo dire Ho sperimentato Quando ero consigliere comunale Cioè La macchina Devo dire Allora Un po' di più Rispetto adesso Probabilmente Legata al fatto Che c'erano Anche più Più persone Che lavoravano C'erano anche persone Che venivano Da una lunga Tradizione Professionale Quindi erano portatori Di Anche lì Difficilmente È vero che io Sono sempre stato Consigliere di opposizione Non ho mai avuto il piacere Di essere un consigliere Di maggioranza È un ruolo Un po' più facile Però no Anche Turveo Ma nemmeno nel 2009 Cioè nemmeno nel 2004 Quando Fui consigliere Di una Maggioranza Tra virgolette Di Tutturici Che In qualche modo Non Non aveva bisogno Del Del mio Contributo Eppure Eravamo Nello stesso schieramento Con qualcun altro Anche nello stesso partito Ma questa è tutta storia passata Insomma Quindi A suo avviso Una persona nuova Che arriva Alla guida di una città Difficile e complicata Come Sciacca Non è che siamo L'ombelico del mondo Però Diciamo che Da noi Possiamo dirlo così Quando nasciamo Assieme al latte materno Ci viene instillato Un po' di vena polemica La dose poi dipende Dal fatto Si presume Che in futuro Il bambino possa cimentarsi Con la politica Quindi credo che sia anche Un po' genetico Lei che questo paese Lo conosce Lo ha Per certi versi Sperimentato da consigliere Oltre che da Direttore delle terme Che cosa è necessario Quindi in una città Come Sciacca In una situazione Poi invece Più generale Di crisi Economica Per gli enti locali Cioè Questa amministrazione A suo avviso In che cosa Avrebbe dovuto Dare quel segnale Di svolta Di cambiamento Di rilancio Guardi Io faccio un discorso Più generale Non mi limito Al discorso Dell'amministrazione Quando si decide Di governare Una città E non mi riferisco Soltanto all'attuale sindaco Mi riferisco un po' A tutta la storia Cominciando anche Dai miei tempi Quindi da Ignazio Messina Quando si decide Di governare Una città Bisogna Accettare L'idea Di essere Impopolari Se invece La sindacatura L'impegno Viene visto E probabilmente Immaginato Come il primo gradino Di un cursus honorum Che poi dovrà portare Per cui Quello che più conta È la costruzione Del consenso Anziché La soluzione Dei problemi Finisce così Si creano Questi passaggi Purtroppo Governare Significa Dover dire Tanti sì Ma dover dire Anche tantissimi No Purtroppo Governare Significa Dover fare Delle scelte Impopolari Sul piano Della costruzione Del consenso Ma che vanno Che vanno Verso Che vanno Nel verso giusto Perché affrontano E risolvono I problemi Del paese E poco importa Le scelte popolari Forse in fondo Nessuno Mai ha avuto Il coraggio Di farle fine In fondo C'è stato Qualche tentativo Timido Su questo sono D'accordo con lei Ma perché Dico anche Nelle cose banali Anche nella chiusura Di una strada Anche nel vietare Dalle cose più semplici A quelle più Io dico Stiamo parlando Veramente delle più banali Però Ecco Bisogna Secondo me Non bisogna Considerare Lei sa che io Ho avuto Un'esperienza Anche come sindacatura Come candidatura Sindaco Come candidatura No Come candidatura Sindaco Eravamo tutti coscienti Quando venne fatta Quella scelta Che quella era Una candidatura Di servizio Quello era il momento In cui Casini Ruppe con Berlusconi Si va da soli Si va da soli Dovunque si andava da soli Andai da soli Anche io Ma era La cronaca Di una storia Che poi abbiamo Abbiamo vissuto Lei ha pagato un po' Anche questo Il momento Sbagliato Ricordiamo che Lei si candidò A sindaco Quando Io ho un pregio Di trovarmi Di trovarmi Sempre nel posto Sbagliato Al momento Sbagliato Questo è Non è facile In politica Però è importante Anche questo Perché uno così Capisce quello che può fare E quello che non può fare Le fu chiesto da Mannino Si Venne fatta questa Il gruppo Che allora Nonostante all'inizio Allora Il gruppo Mannino Avesse partecipato Ricordo La famosa riunione A San Michele Attorno alla candidatura Di Vito Bono Poi invece Questa decisione Prima battuta Di correre Devo dirle Che ci fu un momento In cui L'ipotesi Di un Di un rassemblement Con il gruppo Di Che portava Il mio carissimo amico Vito Bono Era quasi Una Una scelta fatta Probabilmente Si sarebbe fatto Un ticket E la storia Probabilmente Sarebbe stata Anche diversa Non lo possiamo dire Però C'è stato un momento In cui poi È stata fatta Questa scelta Io non mi sono Tirato indietro Perché Quando si milita In un partito Per tanti anni C'è un momento In cui Ti si chiede qualcosa E anche se Tu non la condividi Affronti Ci metti la faccia Come si suole dire Cosa che io feci Nel 2009 Con una Serena bocciatura Perché Al di là Dei numeri Che Vito Bono Espresse Poi ci fu Turturici Poi Bono Quindi Il mio progetto Fu un progetto Assolutamente Non Non preso in considerazione Probabilmente l'intento Era quello poi Di trovare un accordo Al ballottaggio Ballottaggio Che poi non ci fu In realtà Perché Vito Bono Fu il primo 10 giorni Prima delle elezioni Cioè Chi ha un attimo Il polso Della situazione Chi ha fatto politica Per tanti anni Quindi Chi ha la percezione Capiva bene Già 10 giorni prima Che Non ci sarebbe stato Un ballottaggio Lei ricordava Io in fondo Ho obbedito No Non era un ordine Ho condiviso Una scelta Una scelta del partito Una scelta di servizio Adesso Questo spesso Non succede Cioè Con il venire meno Anche dei partiti Ciascun consigliere Esponente politico Si sente libero Questo è un problema serio Questo è un limite O è Un'altra forma Di democrazia Anche all'interno Della politica Questo è Questo è Un Un processo Di trasformazione In Come dire Ineluttabile Ma che andrà ancora Molto più avanti E Più che La mancanza Di leader Perché non è vero Che sia un problema Legato alla mancanza Di leader I leader ci sono Si può discutere Di Salvini Si può discutere Di Di Maio Si può discutere Di Renzi Ma i leader Vengono fuori Ci sono Quello che non succede Più È che Appresso a questi leader Si costruisca Un progetto Per cui questi leader Vivono lo spazio In politica Lei ricorderà I grandi Trent'anni di politica Oggi vivono lo spazio Tutto si consuma subito Vivono lo spazio Di un attimo Perché quello che è in crisi È la rappresentanza Io voglio dire Che La gente Non si sente più Rappresentata Neppure il giorno dopo Che ha votato Si sente più Rappresentata E questa cosa Sarà ancora Molto Molto più Devastante Rispetto alla tradizione Perché Con le nuove Tecnologie Quindi con questa diffusione Incredibile Del Del web Quindi con questa diffusione Incredibile È paradossale Ma c'è un bellissimo libro Di un autore svizzero In questo momento Non mi ricordo come si chiama Che ho letto qualche mese fa E Lui dice Noi in svizzeri Abbiamo una democrazia Quasi diretta Perché siamo pochi Quindi possiamo Tutto sommato Decidere le cose importanti Anche tutti insieme Facciamo tanti referendum Perché siamo Diciamo una confederazione Che guarda molto Alla democrazia Ma perché siamo pochi Ma la rete Questa Distanza Non subito La colmerà Per cui La crisi della rappresentanza Specialmente nei più giovani È data da questo Perché Perché devo delegare qualcuno Se io Se a me la tecnologia Mi mette a disposizione Strumenti Per dire la mia E questo è un problema Che aumenterà Nel tempo Sarà Più si diffonderanno Le tecnologie Che ci collegano tutti No? Non parlo dei social Di Facebook Che io ritengo Un grande curtiglio mondiale Questo non è il sistema Ma la rete Cioè la possibilità Di interconnetterci Tutti Porterà ancora Più avanti Questa Questa voglia Di partecipazione Diretta Sia pure Mediata dal sistema Della rete Ma sarà una partecipazione Diretta Il paradosso qual è Secondo questo libro Che fra 50 anni Voteremo noi Le leggi Non ci sarà bisogno Nemmeno del Parlamento Più Perché con i sistemi Informatizzati Diremo la nostra Ci sarà il voto elettronico Ci saranno una serie di cose Che in questo momento Non riusciamo neppure a immaginare Ma che metteranno Ancora di più In crisi La rappresentanza Che è un sistema Ottocentesco Che nasce nell'Ottocento Con liberalismo Poi continuo Eccetera Diciamo che siamo Nella fase della resistenza A proposito dei social L'influenza Dei social Anche nella politica locale Negli ultimi anni Si è vista in maniera Prepotente Ormai tutto Viene gridato Scritto Tramite Facebook E questo Per chi invece Aveva un modo diverso Di fare politica Cioè di rappresentarla In quella che era L'aula Deputata Il Consiglio Comunale Come è visto? Il Consiglio Comunale Che era Io mi ricordo Intanto i consigli comunali Non si fanno più Neanche in diretta televisiva Quindi diciamo che Tutto quello che succede Rimane in quell'aula Quel minimo di spinta Alla partecipazione Già quel minimo di spinta È venuto meno Però Questi organismi Che erano organismi Rappresentativi Erano espressione Della legittimazione Popolare Come il sindaco Lo era per certi versi Lo era il Consiglio Comunale Non c'è più Perché Un po' perché Non c'è interesse A seguire I consigli comunali Perché non c'è più La politica Quella politica Quella in cui c'era Il vis-à-vis Il confronto Serrato Animato Con le argomentazioni Con le argomentazioni Non c'è più Per cui Poi c'è anche il fatto Che probabilmente Le leggi hanno modificato Le competenze Hanno modificato Un po' tutto Certo hanno ridotto Sicuramente a partire dal 93 Il ruolo del consigliere Però ricordando proprio Quegli anni Lei ricordava poco fa Io ho fatto il consigliere Di opposizione Durante gli anni Di Ignazio Messina Io ricordo bene Quei consigli comunali A quanti oggi Si lamentano Di un'opposizione Sterile Che polemizza Su tutto Io ricordo spesso Che quelli erano Gli anni In cui realmente Il confronto Era serrato E anche di più Quelli erano gli anni In cui Si è arrivati alle querele Si è arrivati Ad eccessi E tutto Sì, sì, per carità Faceva parte Anche di quel modo Di fare politica Perché non bisogna Dimenticare poi Il contesto sociale Nel quale Quella politica si fece Noi venivamo Da mani pulite Quindi venivamo C'era un clima Dal movimento Dal movimento La rete Che è un po' come Il Movimento 5 Stelle Di oggi Aveva cavalcato La tigre Un po' Dell'antipolitica No? Oggi si chiama Populismo Aveva un po' Cavalcato questa tigre Per cui Improvvisamente Tutti Si erano trovati Duri e puri Nei confronti di altri Ignorando Che probabilmente Anche loro stessi Quando erano entrati Nella segreteria Di un deputato Di un senatore Avevano chiesto Qualche cosa Che non si poteva avere La distanza di anni Possiamo dirlo Che tanti Della rete Erano passati Dalla segreteria Di Magnino Non solo E non solo E non solo da quella E non solo da quella Però Manipulite ebbe l'effetto Di un'autoassoluzione Una catarsi Proprio Un'autoassoluzione Per cui tutti Si ritrovarono Duri e puri E pronti a Inchiodare Tutti quelli Che in qualche modo Quindi lei dice Quell'opposizione E io questa cosa Non la sopportabile E questa cosa Per me era insopportabile Non era legato Tanto al sindaco Quanto piuttosto A quello Che Gnazio Messina Rappresentava A quella filosofia Politica Che ispirava Quei passaggi Per cui Tutto quello Che era venuto prima Era tutto da criminalizzare E tutto quello Che veniva In quel momento Il nuovo Che avanza Sarebbe stato Arebbe fatto Questo paese Più bello E più superbo Che pria Come diceva Quel romano Grande Di cui non mi viene Il nome Tra l'altro Voi Arrivaste anche A un momento Forte Come quello Della sfiducia Votata per ben due volte Se non ricordo male Perché ci fu Un inghippo In prima battuta Nel 97 Nel 99 Venne votata Due volte Perché la prima volta Ci fu uno dei problemi Amministrativi E quindi Venne riconvocato Il consiglio E venne rivotato Quindi Coscienza e coscienza Sì Con tutti i crisi Ma Quello fu L'apice Insomma Poi arrivò Se non ricordo male Ignazio Cucchiara E devo dire Che furono anni Di buona gestione Devo riconoscere Che furono anni Si alternano Amministrazioni Centro-sinistra Centro-destra A parte queste parentesi Che abbiamo ricordato Perché Perché alla fine Il cittadino Vuole sempre La novità Vuole sempre Cambiare Provare Sì È un discorso È un discorso Di alternanza Secondo me Ha sperimentato L'alternanza Prima era Incredibile No Si ricorderà Sia Anche Nelle nostre Amministrazioni Locali Il centro-sinistra Era lì Democrazia cristiana Partito socialista Era tutto chiaro Era tutto chiarissimo Le cose erano Molto più Semplici Criticabili Contestabili Ma chiare C'era la possibilità Di comprendere bene Di comprendere subito Di capire Oggi le cose Sono molto Molto diverse Non c'è Possibilità Di rapporto E devo dirle Che oggi Il sistema A me Non piace più Ma non perché Io sia affezionato A un'idea Da novecento Di politica No Per carità Io seguo Leggo Mi informo Non mi esprimo Non ho Non ho più voglia Di una partecipazione diretta E poi credo che ci sia Un tempo per ogni cosa Rispetto Alla contestazione Di un'opposizione Questa è la posizione Del sindaco Soprattutto nell'ultimo periodo Di un'opposizione Troppo sterile Che sa solo attaccare Che non è propositiva Lei che cosa Sente di dire? Ma intanto Le opposizioni Per Come dire La stessa Accezione Di opposizione Vuole Che Tu mi proponi Una cosa Io te la contesto Se poi ho E richiamo anche Quei tempi La possibilità Di presentare Delle soluzioni alternative Rispetto al problema Lo faccio Però per fare questo Devo essere attrezzato Cioè devo avere Una competenza Un'organizzazione Perché io ricordo Che noi arriviamo a presentare Anche schievi di delibere Del consiglio comunale Rispetto per esempio A scelte Che non condividevamo Non ci limitavamo A dire no Presentavamo Una proposta alternativa Poi Spesso La mediazione Portava a fondere Le due cose Perché alla fine Bisognava avere il meglio La politica E anche l'arte Della mediazione Se fosse solo scontro Sarebbe guerra Se fosse solo scontro Sarebbe guerra Quindi Arriviamo All'argomento terme Terme di Sciacca Che sono chiusi ormai Da diversi anni Da 2015 Governo Crocetta Siamo con il governo Musumeci Non riusciamo più A comprendere Se e quando Si arriverà Ad una riapertura Ospicabile Sicuramente Intanto le chiedo Lei Diceva poco fa Io ho avuto Un primo approccio Con l'allora candidata Sindaco Francesca Valenti Che mi aveva chiamato E sollecitato Una vicinanza Un contributo Sulla vicenda terme E È stato dato Un seguito A questa Volontà O no In questo anno e mezzo Io avevo una risposta Complessiva Da quando Io ho lasciato Volontariamente Le terme Nel Settembre Settembre del 2006 Intanto avevo vinto Avevo fatto un concorso Perché avevo capito Insomma Che Randazzo Il mio tempo Alle terme Stava per scadere E quindi Da quando io Ho lasciato Le terme Sulle terme Io Non sono stato Chiamato Da nessuno Se non In quel contesto Che le ho detto Da Francesca Valenti Nella Programmazione Della campagna elettorale Né Né Da Governi Né da Governi Provinciali Né da Governi Regionali Quindi Oltre quel momento Neanche Consegna Parziale L'ho seguito e qualcuno Chiese anche la mia opinione Ecco Ma qualcuno Qualche giornalista Non qualcuno C'è stato un momento Mi pare un anno e mezzo fa Forse anche qualcosa di più Poco prima delle elezioni regionali C'è stato Qualcosa di più Ci fu questa Ipotesi Di trasferire Col governo Crocetta Quindi l'assessore Era Baccei Con cui Io avevo parlato Ma sa perché Perché La Foti Che è deputata Di 5 Stelle Di 5 Stelle Di Acireale Quindi Terme di Acireale Mi aveva chiesto Di accompagnarla Da Foda Da Baccei Per parlare Di Terme Ho detto Ma Ad Acireale C'è una importanza Perché tu hai Una buona conoscenza Della materia Quindi andiamo Da Baccei Quindi io andai Da Baccei Per Acireale Con Deputato Di Acireale E ha preso In quella circostanza La volontà di Baccei In quella circostanza Baccei formulò Diverse opinioni Compresa quella Di fare intervenire Cassa Depositi e Prestiti Che finanziava Una serie di investimenti Immobiliari Ma non gestionali E Anche quella Poteva essere Una Una buona idea Poi invece Qualche mese dopo Seppi di questa Ipotesi di trasferimento Del complesso Termale Dalla regione Alla Al comune Non giudicai male Quell'iniziativa Perché Se però Quell'iniziativa Come dissi In alcune interviste Si fosse coniugata Con un affitto Di tutto il complesso Termale A imprenditori Del settore Individuati Attraverso una procedura Evidenza pubblica Senza scelte Diciamo In violazione Di legge Per un periodo Anche molto lungo 30-40 anni Facendo in modo Che Questo imprenditore Per i primi 10-9-8 anni A secondo Dei canoni Potesse non pagare I canoni Per fare Gli investimenti Di recupero E di rilancio Sulle strutture Questo a me Questa seconda parte Ce l'avevo messa io Non veniva da lì Questo a me Sembrava Un'ipotesi percorribile Anche perché Si trattava Tutto sommato Di scrivere un bando Che non era Una cosa complicatissima Secondo il codice Dei contratti Era una cosa Che si poteva fare Abbastanza agevolmente Anche in tempi Ragionevolmente brevi Se non che poi Seguendo L'evolversi Di questa situazione Prima Non vengono ceduti Tutti i beni Ma soltanto Una parte Non viene ceduto San Calogero Perché non è Catastato Non viene ceduta L'acqua Cioè Se tu non mi metti In condizione Di avere anche La concessione Dell'acqua termale Come faccio A fare funzionare Una stazione termale Ora scopro Che non c'era Nemmeno la stazione Di pompaggio Che è quella che sta All'angolo di via Figuri Sì L'ultima questione Che ha posto In realtà Il parlamentare Cinque stelle Il cuore Di tutto Poi Ho sentito Gli interventi Chi voleva prendere Solo l'albergo Chi voleva prendere Solo i molinelli Chi voleva prendere La pizzeria Chi voleva prendere Questo Il problema vero È che in realtà Non abbiamo neanche Concluso Questa verifica Di consistenza Se vuole la mia opinione Non l'abbiamo neanche iniziato Se vuole la mia opinione Perché Perché il problema Dico Magari annoiamo Chi ci ascolta Ma il problema Di andare a stabilire Qual era Qual era il complesso Dei beni Ma bisognava spuntarli Perché c'è la perizia Di costituzione Quando si costituì La società Siccome si costituì In un modo indegno Io litigai allora Con Granata Ma in malo modo Granata era l'assessore Che voleva passare Alla storia E c'è passato Comunque C'è passato C'è passato sicuramente C'era una perizia Che Come lei ricorderà Aveva valutato i beni Per mandarli A capitale sociale Quindi uno Pigliava quella perizia La perizia L'RSM Ria e partner Di Roma Lì c'era tutto Quindi bisognava spuntare C'erano i beni mobili I beni immobili C'erano anche crediti e debili C'era tutto In quella perizia Quindi sarebbe passato Cominciare a spuntare Quelle cose E a Verbalizzare Bene per bene Qual era il suo stato Ma qual è il problema Allora Questa incapacità Di comunicare Ognuno arriva E dice la sua Oggi la situazione Si è avvitata Su se stessa In modo talmente Complicato Perché Si è rimasti In mezzo al guado Ammesso Perché L'Aetano Armao Sostiene Che essendo stato fatto Nessun provvedimento Amministrativo formale Questi beni Non sono mai usciti Dalla proprietà regionale Sì Sostanzialmente Dall'altra parte Si dice No Noi abbiamo I verbali di consegna Per cui Guardando le carte Si dovrebbe capire Ma io carte non le guardo Ma guardando le carte Si dovrebbe capire In ogni caso Si sta in mezzo al guado Ammesso che una parte Del complesso Sia stata trasferita Si è in mezzo al guado Ma si è in mezzo al guado Da un anno e mezzo Cioè Questa è una situazione Dalla quale Si deve uscire In qualche modo Come si deve uscire Anzi Le chiedo Ma l'impressione Alla fine Non è quella Che ci sia una regia Una volontà Ormai Precisa E definita Per arrivare A portare Questo patrimonio termale Sempre più Nel degrado Per poi Vengarlo Per il classico Piatto di lenticchia Ebbene La sorprenderò No È soltanto Sciatteria Ignaria Non c'è nemmeno Un progetto Non c'è nemmeno Un progetto Per questo Perché vede Ci fosse un progetto Poi Sono altri Gli organi Che devono Verificarne La legittimità Ma ci fosse un progetto E uno dice Vabbè allora Se c'è un progetto In qualche modo Tra un anno Due anni Tre anni Ne usciremo Non c'è nemmeno questo Credo Non c'è nemmeno questo In questa situazione Cosa dovrebbe fare Un amministratore comunale Cosa dovrebbe fare Il sindaco Della città di Sciacca Perché è la città Che vive Non mi può fare Questa domanda No ma io gliela chiedo Una risposta No gliela do Perché Secondo me Allora Secondo me Ormai Per come si è messa La situazione La scelta Di Trasferire al comune Non funziona più Perché A mio avviso Il comune Avrebbe dovuto Predisporre il bando Lui Portarlo in una serie Io ho fatto il bando Mi date per favore Tutto quello Che non mi avete dato Perché se no Io non posso fare la gara Ma questo non è stato fatto Vabbè Non l'ha fatto neanche Sul bando adesso Non si capisce Chi lo deve fare In collaborazione Non è così complicato Un po' Armao Dice che Lo deve fare la regione Poi dice no Ma il comune Deve collaborare Io credo che Io credo che Ragionevolmente Adesso Commenga Obiettivamente Che la regione Riprenda tutto Perché A questo punto Gli interventi Che dovranno essere Fatti Ma ce ne sono Alcuni che sono Veramente urgenti Sulla salvaguardia Dei beni Veramente urgenti E il comune Non potrebbe Non potrebbe Non avrebbe La forza economica Forse Le dico L'unica cosa Che potrebbe Rimanere Sarebbe una gestione Così ma temporanea Perché non si può Io ho una cosa Che Sulla quale non sono D'accordo E che Inviterei tutti Sulla quale Vite tutti a riflettere Non si deve Frazionare Il patrimonio termale Allora L'azienda Nella sua Il suo Compendio La gestione Deve essere Unitaria Deve essere Complessiva E unitaria Prima perché L'offerta Anche sui mercati Turistici Deve essere Un'offerta Complessiva Deve Deve essere Caratterizzante Per essere Caratterizzante Nel turismo Caratterizzante Significa che ha Un Leitmotiv Un'idea Un'idea Di business Quindi deve essere Complessiva Si deve Mettere mano A tutto E può Mettere mano A tutto Soltanto Un imprenditore O un gruppo Di imprenditori Che vogliano In qualche modo Impostare Guardi Io stesso Ho avuto modo Di accompagnare Un paio di anni fa Degli imprenditori Inglesi Che erano venuti Per avere le chiavi Insomma Hanno voluto fare Un giro Sono rimasti Molto impressionati Dalla Anche dalla vastità Dell'offerta Perché è un'offerta Anche territorialmente Distinta Perché noi abbiamo Qui abbiamo Lo stabilimento Dell'albergo Qui abbiamo Le antiche terme Più giù abbiamo I molinelli Poi abbiamo San Calogero Però Quindi la sua impressione È che le terme di Sciacca Siano molto appetibili E che una volta Pubblicato Se arriveremo A questo famoso bando Le offerte ci saranno E la partecipazione Ci sarà Io credo di sì Io credo di sì Io Avevo anche Suggerito Probabilmente Anche questo è stato fatto Ma non lo so Un raccordo Anche con Federterme Io sono stato nove anni Delegato regionale Di Federterme Che è l'organizzazione Datoriale Aderente a Confindustria Che raccoglie Tutti gli imprenditori termani Probabilmente Attraverso Federterme Poi noi avevamo E ricorderai Che noi avevamo Anche organizzato Ci sono ancora Dei rapporti Così ogni tanto Ci facciamo gli auguri Il congresso Della Femitech Il congresso Della Federazione Mondiale Di Termalismo Quindi diciamo Se si fossero Ricusciti questi rapporti E' un russo Oggi Anzi un italiano Sposato con Un medico russo Che si occupa Di Termalismo Noi andammo a Mosca Due volte Per andare ad aprire Sti rapporti Cioè Si deve rimettere In moto Un meccanismo Che non è il meccanismo Soltanto Della ristrutturazione Dei beni Perché Per fare le cose Basta avere i soldi Poi però bisogna gestirle La gestione È una cosa Profondamente diversa Passa attraverso I rapporti con I tuoi agenti Passa attraverso I rapporti con Gli imprenditori Ma anche relativamente Al bando E' ipotizzabile Che la regione Abbia sì In parte Concesso Parte del patrimonio Termale a Sciacca Ma non segue Un percorso Che porti al rilancio Di tutte e due Le stazioni termali Cioè E' ipotizzabile Che Sciacca Segue un percorso E da Cireale Un altro Guardi Questo è il dubbio Io credo che Insieme Non ci sia più Ragione che camminino Camminavano insieme Le due aziende Termali Quindi gli enti pubblici Della regione Che oggi Non ci sono più Camminavano insieme Per la semplice ragione Che erano state Istituite Con lo stesso Decreto Che era il decreto Del 1954 Il decreto numero 12 Del 50 Il decreto del presidente Della regione Del 54 Quindi erano Avevano Organi in comune Per esempio Il comitato centrale Che approvava Le delibere Eccetera In realtà Oggi sono due Stutture Peraltro Cireale Con qualche problema In più Perché Loro Fecero un mutuo Molto pesante Per l'acquisto Di un albergo Quindi io non credo Che debbano più Camminare insieme Non c'è ragione Che camminino insieme Devo però dire Che La chiusura Dell'azienda Dal 2015 Ha generato Un'altra 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 Difficoltà Quando le aziende Termali Le stazioni termali Non chiudono Ci sono Dei Diciamo Dei Dei Controlli sanitari Delle cose Che sono rutinarie Prelievi mensili C'è tutta Una legislazione Di tutela Dell'utente Quando invece Si chiude Per un periodo Così lungo Bisogna ripartire Con la sperimentazione Clinica Delle terapie Questo significa Tecnicamente Che Bisogna seguire Lo stesso percorso Della sperimentazione Di un farmaco Perché l'acqua termale Essendo terapeutica È come se fosse un farmaco L'acqua termale Ha La particolarità Di essere Contemporaneamente Un fatto minerario Perché È considerato Un gecimento Da miniera Infatti deve avere Il direttore Della concessione Mineraria Poi c'è il fatto sanitario Quindi i rapporti Con le autorità sanitarie Che comportano Un anno di prelievi Un prelievo In ogni stagione Quindi estate, autunno Inverno Primavera Una sperimentazione Che deve essere fatta Con sistemi E poi il consiglio Superiore di Sanità Che si deve esprimere Cioè C'è Un impegno Anche dal punto di vista Amministrativo Che probabilmente Chi deciderà Se decideranno Di prendere in gestione L'azienda Senta ma lei È ottimista O pessimista A questo punto Cioè noi Arriveremo A riaprire Le terme di Sciacca Se sì Quando Io sono convinto Torno a dire Come sta scritto Nell'Ecclesiasta C'è un tempo Per ogni cosa E quindi Le terme Non potranno restare Chiuse In eterno La chiusura Ha provocato Mille problemi Perché Peraltro Sono anche Critico sul modo Come sono stati chiusi Cioè da un giorno all'altro Di questo ora volevo Parlare in realtà Per cui Ma io sono Cioè questa chiusura Arrivata proprio Come un fulmine Al ciel sereno Perché in realtà Sì sapevamo Che la situazione Non era rosa Che c'erano Dei debiti Però Questa decisione Allora È stata proprio legata Era inevitabile O Se lei mi promette Tre minuti di pazienza Io parto Forse un po' da lontano Però Questo rende più chiaro Perché il sindaco di Paola Al tempo Si infuriò alquanto Cioè Fece di tutto in realtà Per evitare Queste chiusure Allora partiamo Partiamo Dalla Per capire bene Come diceva quello Per capire Chi siamo E dove stiamo andando Dobbiamo partire Da dove veniamo Da come eravamo Perché Perché A un certo momento Nel 2005 C'è questa accelerazione Perché Ricorderà che La legge che Prevede La privatizzazione Del Risale Il 1999 La legge numero 10 Famosissimo Il governo Capo di casa Tutti diedero in testa Al governo Capo di casa Ebbene Non è così La visione era giusta No No Sa perché Dovette fare Quella legge La regione Che non riguardava Soltanto le aziende Di sciacchi 10 reale C'era la chiusura Delle aziende Di soggiorno e turismo La chiusura Delle apt La privatizzazione Dell'ast La chiusura Dell'ama Cioè Praticamente La regione La regione Doveva uscire Dalle gestioni Imprenditoriali pubbliche Perché Perché la regione Doveva chiudere Il bilancio Del 1999 Per chiudere il bilancio Del 1999 Era bisogno di 1600 miliardi Non trovava una banca Che facesse un mutuo Da 1600 miliardi Trovò la Merrill Lynch La Merrill Lynch Per fare quel mutuo Pretese un impegno Legislativo Di uscita Della regione Dalle gestioni Che erano soltanto Gestioni che costavano Che costavano Sicuramente Per cui Il governo Di casa Franco Piro Era assessore Del bilancio Fa questa legge La legge 10 Che riguarda Una ventina di soggetti Non riguarda solo E questa legge Viene fatta Si fa il buto Ma rimane lì Rimane lì Perché Perché Ci si fa il conto Ma siamo sicuri Che Trasformando Queste aziende Noi smettiamo Di spendere Quello che spendiamo Che era diventato In realtà Molto poco Rispetto a prima Faccia conto Che non si riuscivano Neanche a pareggiare I bilanci Che quindi Andavano in disavanzo Perché La regione interveniva Come diceva La legge istitutiva Per pareggiare Perché Le aziende Avevano i loro fatturati L'azienda di Sciacca Fatturava Però Siccome aveva anche Degli oneri Legati alla sua Funzione pubblica Tutela del bacino E spero che Avremo in un minuto Per parlare anche di questo Che è una cosa molto importante Allora la regione interveniva E pareggiava il bilancio Dice Quanto ti mancano Mi mancano Due milioni di euro Ti pareggio il bilancio Allora qualcuno si posa il problema Ma siamo sicuri che Trasformandola in società Per azioni Ci costa meno Quest'operazione Per cui Dal 99 Tempo reggiato Non avendo Non avendo Chiaro Che cosa sarebbe successo Con la privatizzazione Che Una sub privatizzazione Non Non si fece più niente Nel timore di sbagliare Lei immagini che Con il commissario Valli Già L'anno dopo Nel 2000 Noi trasmettemmo A Palermo La presidenza della regione Tutto quello Che consentiva alla regione Di valutare Tutti i beni Tutti i due Cioè tutto Due faldoni così Che arrivarono Alla presidenza della regione Dopodiché Nel 2005 2004-2005 L'assessore Granata Riprende Questa cosa E la riprende Secondo me Senza valutare sufficientemente Con quello che stava facendo Perché cosa fa? Fa una società per azioni Come ne ho detto In cui Mette questo La storia Poi Non la ripeto Perché è conosciuta Arriviamo però Al 2006 Al 2005 Nel 28 dicembre Del 2005 Io accompagno La dottoressa Dora Piazza Commissario Per la Costituzione Intanto si fece una costituzione E non una trasformazione Per intenderci Non si fece Quello che si fece Nello Stato Per le poste Per le ferrovie Per i monopoli Cioè una trasformazione Si fece una costituzione Di una nuova società E questo fu un altro errore storico A termine di shock S.p.A. Perfetto Quindi Nel 2006 Parte questa Questa gestione Io avevo detto E l'ho conservata Guardi La incornicerò Questa sarà la Avevo detto In un'intervista Che mi aveva fatto Milano Finanza Mi avevano trovato Non so come Dice ma C'è una pagina così Dice Questa cosa porterà Le due aziende Alla morte E la cronaca Di una morte Annunciata Cosa che poi Si è verificata Ma non sono contento Di aver avuto ragione Perché Per come era stato Ideato il sistema Sempre evidentemente Da Soloni Che erano molto più bravi Molto più preparati Molto più competenti Già da subito Perché Perché mentre la regione Poteva pareggiare I bilanci Degli enti pubblici La regione Non poteva intervenire Nei confronti Di società Di diritto privato Perché diventava Un aiuto di Stato In violazione In violazione In violazione del regolamento Comunitario Qualcuno si era posti Questi problemi Io li avevo rappresentati Come direttore Poi litigai Granata Mi disse Ambrosetti Si deve fare il direttore Ma era quello Che stavo facendo Cioè stavo prospettando E questo che poi Ha determinato L'inevitabilità Ed è stato poi Un crescendo rossiniano Al contrario Cioè Peggiorava 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 A un certo punto Crocetta Nel 2015 Anche lui Con un ragionamento Di grandissima superficialità Non assistito Anche da Diciamo Da soggetti Che avrebbero dovuto Spiegare Tutte queste cose Mai chiamato Dice No basta Queste Società per azioni Continuano a perdere Continuano a perdere Continuano a perdere Prima si era inventato Un aumento di capitale sociale Perché Per aggirare l'ostacolo Della cosa Poi I soldi Che nel 2005 L'azienda delle Terme Aveva guadagnato Con le terapie Erano solidati a loro E non potevano Perché c'era aiuto di Stato Insomma Alla fine Quando capì Che è stato fatto un errore La soluzione più logica Sembra quella Di chiudere le Terme Se si fosse Lasciata in piedi L'azienda delle Terme Ancora Non dico molto Ma 3-4 anni Individuando Un percorso virtuoso Di privatizzazione Vera Non voleva Cacciare una lira Alla regione Voleva mandare A capitale sociale I beni Valutandoli Va bene Quei beni Valevano 14 milioni E mezzo Circa di euro Peraltro Non tutti i beni Dell'azienda Ma anche i beni Della regione In uso Bastava fare un bando Evidenza pubblica E dire Io mi tengo il 51% Che vale 14 milioni E mezzo Sto cercando soci Un privato Che mettano 14 milioni E 3 Per avere il 49% E gestire Con un patto parasociale O statutario Dare l'amministratore Delegato Ai privati Che mettevano i soldi E volevano gestire Non abbiamo risolto il problema Sente Indubbiamente Andiamo ancora più A ritroso Indubbiamente Gli anni in cui Lei è stato Direttore Amministrativo Sono stati gli anni Del rilancio Delle Terme di Sciacca Sì ma bisogna Dire grazie Le piscine Perché i progetti Li ha tutti Pensati Immaginati E sviluppati Pasquale Mannino Poi io mi sono occupato Della gestione Dopo la realizzazione E però torno a quegli anni Anche per dire Ma non è partita da lì Forse Il processo Di indebitamento Che poi ha portato Anche a questo speciale No Questa era un po' L'accusa Che voi avete Subito In questi anni Questa è l'accusa Questa è l'accusa Di chi L'uva è troppo alta E quindi E' agra No Questa è una sciocchezza E le spiego perché Perché La regione pareggiava I bilanci Quindi Io Io facevo un bilancio No Ma erano soldi pubblici Soldi di tutti E perché Alla fine Mi perdoni Ma quelli che sono salidati per anni Alla SPA Di chi erano La SPA Che doveva Come dire Improvvisamente Fare Ma lei ricorda I consigli L'amministrazione Ma lei ricorda Quante persone Dissero che era Era finita L'epoca degli sprechi Ora cominciano Buttando fango Su quelli che c'erano Ora era l'ora Dei sindacalisti Politici Tutti lì a dire Ora le cose cambieranno Ora diventeremo La onolulu Dell'Europa Ora di qua Ora di là Così non è stato Niente di più falso Però il cittadino Ha vissuto La questione terme Con un certo distacco Anche per questo Andazzo di tanti anni Le porto un esempio Che spesso ricordo Noi abbiamo fatto Un solo sciopero A sciacca Scusi Quale andazzo Anche per capirlo No nel senso Le sto spiegando Noi abbiamo fatto Un solo sciopero A sciacca Dopo la chiusura Delle terme Non ha partecipato Nessuno C'è il distacco Tra la città E il bene più prezioso Che questa città È stato evidente A tutti Si è detto Si è considerato Le terme come un problema Dei dipendenti Che ci lavoravano Come una sorta Di carrozzone Mangiasoldi Non si è capito In fondo Che quella invece Era la risorsa Che avrebbe potuto Rilanciare a sciacca Che magari C'erano stati C'erano stati Commessi degli errori Sicuramente In passato Un tasto importante Per questo Però mi consente Di dire qualcosa L'azienda Delle terme Perché bisogna Spiegarle tutte queste cose Se no poi Non si capiscono L'azienda Delle terme Nei primi anni Ottanta Era Una specie Di cadavere Perché Dico Negli anni Ottanta Perché Era partita L'iniziativa SITAS Nel 73 74 Che era Ridondante 11 alberi Progetto Megagalattico Quindi Diciamo Si era concentrata L'attenzione Sull'iniziativa SITAS Per cui L'azienda Stava morendo Di consunzione Perché Perché si immaginava Che quell'iniziativa Avrebbe assorbito Anche questa Per cui Dice Inutile Che perdiamo Tempo Con Con Le terme Quelli Sono tutti Alberghi Termali Quindi Questi Arriveranno Qua Prenderanno Questo Anche le terme Diventeranno Per cui L'idea Era questa Quando ci si accorge Nei primi anni Ottanta 81 82 83 Che La SITAS Per colpa Dei soci Privati Lo voglio dire Chiaramente Questo Per colpa Di quel Gruppo Di Abbano Non Decolla Ma diventa Un pozzo Senza fondo Allora si comincia A tornare A investire Allora cosa succede Arriva Nell'83 Pasquale Mannino Alle terme Come commissario E Prova a rimettere In moto Un processo E lo fa benissimo Perché Ci sono Arrivano i tecnici E voglio ricordare L'ingegnere Marcello Misuraga Che è stato Importantissimo In quel processo Di Riprogettazione Di Re-engineering Del Arrivano Altri tecnici Si fanno Concorsi Arrivo Io Nell'84 Con un concorso Pubblico Vinco il concorso Quindi si rimette In moto La parte Amministrativa La parte Tecnica E Cominciano Una serie Di Interventi Di Molti Molti Soldi Versati Dalla Regione Per rimettere In piedi Tutto Si ricostruisce Lo stabilimento Si ricostruiscono Le antiche terme Si ricostruiscono Le piscine Del parco Il parco I molinelli San Calogero Si rifà Lo stabilimento Insomma È Un rifiorire Di Di un'azienda Che si pensava Morta Al punto tale Che ci sarà Un momento Alla metà Dalla fine Degli anni Ottanta In cui L'azienda Sarà L'unica Offerta Turistica Della città Non ce ne sono Altre Perché Solo Torre Macauda Per certi Aspetti Ma distante Comunque Da noi Ma Ricordo che Gli alberghi Apriranno Molto Più Tardi Quindi L'unica Realtà Turistica Sono le Terme I soldi Che la Regione Diede Per quei Progetti Sono stati Tutti Investiti Nelle Strutture Erano Soldi In Conto Erano Investimenti In Conto Capitale Non erano Spesa Corrente Poi Nel 1989 Quando L'azienda Si è Quasi Tutta Ricostruita Si prende Atto Che c'è Un gruppo Di 80 90 Persone Che da Trent' Anni Lavora Come Stagionale Lavora Come Stagionale In che Modo Cinque Mesi Più Cinque E poi A casa Cinque Cioè Dieci Mesi L'anno E allora Secondo Le cure Aumentavano Avendo aumentato L'offerta Delle terapie Era aumentata Anche la domanda Ma in modo Esponenziale Quindi a quel punto Si fa un ragionamento Si fa anche un conto Economico Si dice Guardate che non ci conviene Più tenerli stagionali Perché poi alla fine Dei dieci mesi Dobbiamo pagare le ferie Dobbiamo pagare questo Quindi è come se Pagassimo Un anno di stipendi Stabilizziamoli Ma stabilizziamoli Legittimamente Con un concorso Riservato E lì ci fu Il passaggio Alle divennenze Della regione Che fu Una conquista Di civiltà Prima ancora Che di Senta Però Le terme di Sciacca Erano un centro di potere Ed è la famiglia Mannino E tutto Non è che possiamo Negarlo Scusi Guardi che Pasquale Con tanti risultati Positivi La valutazione Che si fa Di una persona È legata A quello A quello Che quella persona Fa Sa Fare E fa È chiaro Che Sulle cose Concrete Si costruisce Il consenso Guardi che sarebbe Stato molto più Semplice Tenere gli stagionali E probabilmente Ogni anno Sul piano Che dice lei Politico Tra virgolette Farmi entrare 5 in più 6 in più 7 in più 8 in più Se non sei bravo Non ti rinnovo il contratto Era molto più semplice Sul piano politico Si è fatta invece Una scelta diversa Cioè si è detta Si è detto Non è Etico Che ci siano 80 90 Persone Che Non hanno La stabilità Del loro posto di lavoro Ma questo Non si è fatto Per una scelta politica Si è fatto Per un interesse Legato All'incremento Delle prestazioni termali Che scaturivano Dal re-engineering Dell'intera azienda Poi succedono Due cose incredibili Quando Il diavolo fa le pentole Ma non fa i coperchi Succede Una cosa Nel 91 E una cosa Nel 92 Una cosa che Come dire Esula Dalla 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 volontà Dell'azienda Nel 91 Viene abolito Il congetto straordinario Per le cure termali Lei sa E quindi Che Fino al 91 Si fruivano Si fruivano E quella Fino a badosta Potevano fruire Di due settimane Più oltre le tene Sì Per noi fu un colpo Ma ci furono 65 aziende Che fallirono In Italia Tutte quelle Tutte quelle del Lazio Che assorbivano La domanda Dei ministeriali Fallirono Di colpo Quindi questo fu Un primo colpo Noi lo sentimmo Un po' Il secondo colpo Fu nel 92 Quando il ministero Della sanità Fece un decreto Con cui ridusse La tipologia Di patologie Ammissibili Alle cure termali Prima si potevano fare Alle cure termali Per un numero Indefinito Di patologie Lì venne fatto un decreto Si va alle cure termali Solo per queste 10-12 cose Quindi questi due colpi Uno appresso all'altro Ah no Certamente Generarono Un problema Lì si doveva aprire La fase Della Riconversione Verso Verso altro Perfetto E si è fatto In parte Si è fatto in parte Le ricordo che noi Ristrutturammo Il Grand Hotel Delle Terme Nel 97 Creando il centro Benessere Non eravamo Ancora pronti Ma non era pronta Nemmeno La domanda In quel momento Perché noi venivamo Da un termalismo Ancora sanitarizzato Sì Ancora troppo legato Dovevamo migrare Verso un termalismo Del benessere Cosa che provammo a fare In albergo E funzionò benissimo Però non era supportato Poi d'altro No Però noi A quel punto Eravamo stati bravi Perché Ce l'avevamo andati a cercare I tedeschi E i norvegesi Che Venivano a sciacca Nei periodi di bassa stagione E novembre Dicembre Perché per loro Novembre, dicembre Gennaio, febbraio Volevano una piscina scoperta Quella più piccola Perché per loro era Estate comunque Ma flussi talmente Noi arrivavamo Ci fu un anno Che fatturavamo 5 miliardi di vecchie lire Tra albergo e azienda Ma flussi così notevoli Questo lo raccontiamo Lo affidiamo alla storia Che noi fummo scelti Unica stazione termale in Italia Dal governo norvegese Fece una gara Tra quattro stazioni Francesi Italiani Croati E non mi ricordo Un'altra Che era Tedesca Baden Mi pare Fece una gara Perché In Norvegia C'è un sistema sanitario Molto sviluppato Loro assistono Tutti gli anziani Li mandano Per un mese Alle terme A fare le cure E noi fummo Selezionati In Italia Perché c'erano Questi gruppi norvegese Che venivano Quindi parlavano E fummo invitati A fare un'offerta Per fare l'offerta Ci mandarono Per un mese A pagamento 100 anziani Con 10 accompagnatori Si immagina A novembre Un albergo così pieno Poi noi arrivavamo Secondi Arrivò prima La Croazia Perché la Croazia Aveva un costo Del lavoro Molto più basso Rispetto a noi Noi non potevamo Scendere sotto Quindi la nostra offerta Fu la seconda Ma lo voglio dire I gruppi Dalla Norvegia Erano diventati Così numerosi Che a un certo momento Con il nostro agente Norvegese Che era Brinelsen Pensammo di fare Un charter Per sparagnare Per così dire Agevolare anche I costi Quindi del vettore Di bandiera Certo Quindi andammo lì contentissimi Io feci questa cosa Poi andai in assessorato Perché dovevamo avere l'autorizzazione L'assessorato Mi dice Bravi Ma dove volete arrivare Quindi sa cosa Io li capì che Che già c'era qualche cosa Abbiamo ricostruito solamente in parte La storia delle terme Ed è volata Molto più lunga Molto più lunga Però io sto scrivendo un libro Tante tradizioni Allora ci diamo appuntamento Con Filippo Cardinale Allora ci diamo appuntamento Stiamo scrivendo un libro insieme Un libro sulle terme Che si chiama Una storia sbagliata Per tornare a parlare di terme Lei oggi è invece All'assessorato territorio ambiente All'assessorato regionale territorio ambiente Sono lì da gennaio Una nuova esperienza Quindi chiudiamo con questo nuovo incarico Sì, sono capo della segreteria tecnica Sostanzialmente io mi occupo Dell'attività amministrativa dell'assessore Che si articola nell'ambiente Nell'urbanistica Nel corpo forestale dello Stato E nell'ARPA Che è l'agenzia regionale di protezione ambientale Mi occupo di questo Poi mi occupo anche Dell'attività legislativa dell'assessore Dell'attività ispettiva Quindi delle interrogazioni parlamentari Che vengono fatte Insomma Però credo che questo Io ho fatto tanti lavori nella vita Cominciato a scuola Poi le terme Poi l'IRCA Poi l'assemblea regionale Questa è un'altra fase Ce ne saranno altre Questa è l'ultima fase No, no Questa è l'ultima fase Poi ci sarà una fase Così libero professionale Io sono abilitato La professione Da molti anni Da 30 anni Probabilmente Quando andrò in pensione Ci sarà tempo anche per questo Mi iscriverò all'albo Venga ma lei L'onorevole Manino Lo sente sempre Al di là del fatto Che ormai politicamente Non siete più impegnati Sì io lo sento Diciamo per le feste comandate Poi recentemente ci siamo visti Per un'occasione non felice A Belmonte Menzagno Per il funerale della mamma Di Saverio Romano E lui era lì Ci siamo visti Abbiamo un buon rapporto Ma lui ha appeso Le scarpe al chiodo Le scarpe al chiodo Chiesa io Non vorremmo fare un'associazione di reduci No assolutamente Non siete propri tipi Per farlo Io la ringrazio intanto Per aver partecipato Grazie a lei Alla trasmissione Ci diamo appuntamento Allora il libro concluso Io non venivo in televisione A fare un incontro così Da tantissimo tempo Ogni tanto fa bene Non so ai nostri telespettatori Insomma a noi Lasciamo gli altri decidere questo Grazie a voi chiaramente Per averci seguito E come sempre Arte e Redi Che ogni settimana ci ospita Appuntamento alla prossima puntata Fill my heart with song And let me sing forevermore Allora 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 Grazie a tutti.